Perché è un concetto che sta dicendo adesso è condivisibilissimo, il contributivo è una cosa, il retributivo un'altra. Se hai pagato tanti contributi è giusto che lo Stato ovviamente questi te li restituisca in forma pensionistica. Aggiungo però un dettaglio e su questo Mazzotti ne dovrà convenire. È certamente quella che sta facendo il Governo una scelta di opportunità, il non agire. Perché altrimenti non ci sarebbe una ragione per la quale non prendere subito un provvedimento di legge che darebbe anche ai cittadini un segnale importante. Il problema è che poi bisogna giustificarlo a qualche personaggio e penso anche alla Corte Costituzionale che è infarcita da persone che hanno fatto politica uno per tutti amato e che in quanto accumulo di pensioni poi avrebbe qualche sforbiciato importante.